Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Il gioco è uscito ufficialmente in 1.0 il 16 di novembre, quindi questo ve lo avevo portato tempo fa in live, era praticamente una demo, insomma un bel simulatore diciamo di fabbro gestionale, manageriale, insomma dovremmo amministrare la nostra fucina con l'evoluzione del nostro personale e delle nostre case, delle nostre appunto luoghi di lavoro. Il gioco è uscito e costa 20 euro, 19,49, adesso è scontatissimo fino al 28 però ecco il gioco è uscito e procediamo oltre. E voglio avvisarvi che il gioco Shadow of Doubt tradotto lo potete scaricare da RPG Italia, ringrazio Godan65 per questa traduzione, iscrivendovi al sito, scaricando il file troverete degli Excel da sostituire in una cartella, è tutto scritto all'interno del file di testo compreso nell'archivio. Potete fare anche una donazione all'autore della traduzione e insomma vedrete il gioco finalmente in italiano, tranne forse per la scritta iniziale di Premium Tasto che lo vedrete in spagnolo. In pratica si sostituisce la lingua italiana alla lingua spagnola, quindi in gioco dovete mettere lo spagnolo. E niente, questo è un grande surplus per quelli che hanno sempre amato i giochi noir investigativi. Per me era godibilissimo anche in inglese ma in italiano cavoli cambia tanto perché tutti i documenti li trovate anche tradotti in italiano. Procediamo oltre e andiamo sulla traduzione in italiano di War Tales. Qualcuno mi aveva detto, eh ho comprato il gioco ma poi non funziona, l'ho comprato per niente. La traduzione è stata rivista, portata avanti all'ultima versione di gioco. La trovate su Nexus Mod, quindi avete il file da scaricare e da sostituire al file originale. Insomma, quindi sono 356 MB di traduzione e potete finalmente godervi il gioco in italiano cambiando appunto la lingua con la lingua italiana. Infatti vedete che poi il polacco credo sia stato sostituito al posto del polacco. Infatti la lingua poi diventa, tutto il gioco diventa completamente in italiano. E detto questo passiamo ai video della settimana. E tra i giochi portati questa settimana, ovviamente come non scegliere Cucun, gioco che sono riuscito a portarvi soltanto grazie al Game Pass. Ed è un gioco che magari non innoverà così tanto ma ha dei profondi cambi di gameplay dovuti ai vari puzzle ambientali che andrete ad esplorare. La Vince è facile perché questa settimana abbiamo visto un remake di un vecchio strategico, Stronghold. non è propriamente il mio genere insomma e un simulatore di trasporti su ruota, camion, con elementi survival che secondo me piaceranno a tanti ma non è qualcosa di assolutamente sconvolgente. E quindi insomma mi sento di determinare come gioco della settimana che ho portato Cucun. Ovviamente se siete arrivati fino a questo punto del video fatemi sapere se vi piace questa rubrica indice. L'unica cosa su cui io sono un po' più dubbioso a parte le news brevissime che vi porto è questo fatto del miglior gioco della settimana che ovviamente lascia secondo me un po' il tempo che trova. Fatemi sapere perché i gusti sono gusti. Fatemi sapere sotto nei commenti ovviamente sono impaziente di sapere che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!